Mister Rieco, un amichevole la seconda di questa settimana, un amichevole anche un po' impegnativa perché l'avversario ci ha messo l'anima e il cuore. È giusto che sia così, anche noi, quindi era un avversario ostico che sa giocare a calcio, sa interpretare molto bene la seconda palla, quindi era veramente un test difficile, quindi sono contento oltre alla prestazione anche di aver vinto 1-0 e di non aver subito gol. Un periodo, due mesi praticamente, perché è iniziato il 10 di luglio, cantiere aperto, gente che va, gente che viene, avevi tanti dubbi magari nella tua mente da sciogliere, hai fatto girare tutti i giocatori che avevi a disposizione, un'idea? L'idea ce l'ho, è ovvio che non la dico, ma l'idea ce l'ho, era giusto ed è giusto intercambiare i giocatori per far prendere minutaggi e per non farci trovare impreparati per quanto riguarda il campionato. Spero di recuperare gli infortunati che questo è molto importante. Se sarà Serie B, se sarà Serie G, questo lo saldiamo per l'ultimo minuto. Ma ormai è inutile pensarci, venerdì arriverà questo benedetto verdetto e prenderemo quello che viene. È ovvio che se siamo in B saremo molto contenti, ma se sarà ci noi siamo molto preparati. Se siamo in B però si riapre il cantiere. Eh, se siamo in B la società saprà cosa deve fare. Si apre il cantiere, vediamo nei giocatori di fuori lista, in qualche svincolato e vedremo dove possiamo aumentare sia a livello tecnico ma anche un discorso di struttura perché sicuramente la B, per quanto ci riguarda, se andremo poi partendo in ritardo avremo partite molto ravvicinate quindi dobbiamo avere una rossa omogenea. Se siamo in C il cantiere resta chiuso o si riapre poi magari più avanti? No, se siamo in C, tranne se non arriva qualche bella idea di qualche svincolato, una l'abbiamo già fatta con un ragazzino del 99 che è la nostra quarta punta solo sulla carta, poi potrebbe diventare anche la prima. Altri penso che stiamo alla finezza, al massimo potremmo fare anche un mancino per ogni tanto far rifiattare Carlo, ma vedremo. Un campionato quello della Serie C che è sempre poi un'incognita perché tra retrocessioni, anche lì, cambio di gironi, diventa difficile da leggere. La Serie B è più facile forse da inquadrare. Sì. Difficile come campionato ma più facile per capire i valori. Sì, sì, sono d'accordo. È ovvio, la B è la B. È un campionato difficilissimo, si giocherà ogni tre giorni e noi sicuramente ad oggi non siamo un organico da B. Quindi ci dobbiamo attrezzare. Per quanto riguarda la C possiamo dire la nostra e diremo la nostra. Grazie. Grazie. Grazie.